Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Decisione senza precedenti della Comar Pesca che con una lettera chiede ufficialmente la Capiteneria di trasferire Peschereccia al porto di Pesaro Convocata ad Ancona una riunione con l'assessore regionale al quale il sindaco di Fano lancia un ultimatum se non seguiranno fatti concreti da mercoledì protesteremo ad Oltrano Prove di rilancio per la nautica Azimut Benetti annuncia investimenti a Fano in Marina Group e la realizzazione di nuovi yacht per 60 milioni di euro l'anno Nella notte rubate bici da corsa per un valore di 36 mila euro Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri E benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la situazione al porto di Fano una situazione drammatica questa mattina si è sfiorato l'ennesimo incidente con un peschereccio che non è riuscito ad uscire dal porto ed ha rischiato di incagliarsi nei fanghi non dregati Il settore della pesca fanese sta morendo e noi siamo al collasso per questo siamo costretti a trasferirci a Pesaro Il drammatico annuncio della Comar Pesca è che questa mattina ha deciso di chiedere alla Capitaneria di Porto Pesarese la possibilità di trasferirsi là I pescatori sono disperati preoccupati per la loro incolumità e per la loro attività un settore che tra occupazione diretta è indotto da lavoro a più di 200 persone un dregaggio quello del porto di Fano che attende di essere effettuato in maniera seria e definitiva da oltre 15 anni qui ci sono 25.000 metri cubi di fango da dregare per una spesa di oltre 1.300.000 euro soldi che la regione evidentemente non ha anche se l'assessore regionale Giorgi ha annunciato di destinare ai porti marchigiani 5 milioni di euro di questi quanti ne saranno destinati a quello di Fano forse lo si saprà martedì prossimo quando l'assessore incontrerà i rappresentanti dei comuni interessati tra i quali anche quello di Fano Massimo Seri che oggi ha lanciato un ultimatum proprio alla regione e del quale parleremo tra poco questa mattina invece abbiamo di nuovo incontrato i pescatori ed ecco che cosa ci hanno raccontato eccolo eccolo visto guarda un po' guarda sono un metro venti guarda un po' più un metro lato guarda un testo giace stamattina abbiamo fatto richiesta alla Capitaneria di Pesaro perché quasi tutto andranno a sbarcare nel porto di Pesaro perché è impossibile rientrare di notte rischiando la vita se non si fa subito un dragaggio la pesca finirà a Fano e questi si dovranno spostare in altri porti queste sono tutte le barche che sono rimaste sono quelle operative quelle operative qui le barche più grosse quelle che fanno la pesca a stracico sono tutte qui mi diceva che questa notte due di queste alcune di queste hanno avuto dei problemi si hanno avuto grossi problemi ad entrare si erano quasi incagliate poi col motore a tutta forza sono riuscite ad entrare ma causando anche grossi danni alle prese amare hanno dovuto smontare le prese amare perché c'era entrato il fango ecco vedete qui se l'operatore ci segue ci sono dei tubi questi tubi si sono riempiti di sabbia di fango praticamente le barche raschiando sotto ci hanno le prese amare dove prendono l'acqua anche per raffreddare queste cose qui e gli entra tutto il fango anche nei motori con grossi danni anche ai motori se ti capita una tempesta per entrare ti sinchiglia la barca ci può capovolgere moriamo tutti noi abbiamo fatto oramai un sulco abbiamo fatto un sulco e cerchiamo di sfruttare quello però magari con una piccola tempesta con la liscia che manda giù l'acqua dal canale albani o qualsiasi cosa si chiude si chiude si riempie e noi siamo sempre in rischio anche se c'è un'emergenza che uno deve entrare ma te rimani fermo lì anche se per caso avesse qualcuna situazione di pericolo rimani fermo lì o ti vengono l'ambulanza ancora con il gommone non ci viene a bordo adesso facciamo la prova immergiamo questo bastone per farvi vedere quanta acqua c'è e dov'è il fango eccolo lì vedete guardate ecco quindi ci sarà più o meno un metro d'acqua un metro poco più poco più un metro e dieci d'acqua ecco ogni due mesi le riunioni col sindaco il prefetto la regione tutti cosa vi dicono tutte le volte uno si rimpalla con l'altro dicevamo del sindaco Seri questa mattina ha lanciato un ultimatum alla regione Marche se nella riunione ha detto Seri di martedì non ci saranno atti concreti inizieremo una forma di protesta costante nel tempo perché non possiamo più attendere sentiamo le parole del sindaco martedì andremo a questa ulteriore riunione che sarà l'ultima per quello che mi riguarda perché da mercoledì se non ci sono atti concreti devo dire che mi hanno dato delle garanzie verbali ma io non mi accontento di queste c'è stata collaborazione ci sono stati gli obiettivi che abbiamo condiviso ma adesso devono arrivare gli atti concreti per cui io ho già parlato anche con le rappresentanze della marineria martedì vediamo quali sono le ultime parole dopodiché faremo una forma di protesta costante finché non arriveranno queste risorse perché parliamoci chiaro questo dipende dalle disponibilità che la regione ci dà per fare un intervento importante ma non risolutivo che serve per dare garanzia per alcuni anni all'interno della quale poi bisogna fare queste scelte strutturali per dire poi finalmente andiamo lavoriamo con serenità e diamo tutto lo sviluppo che il porto merita e questo è l'annuncio del sindaco di Fano fatto a margine di un incontro molto importante nel quale si è parlato invece di sviluppo sviluppo in un'area del porto turistico Azimut Benetti azienda leader della cantieristica italiana ha deciso infatti di investire a Fano attraverso Marina Group la società ha in progetto di realizzare nel porto un'area produttiva e di servizi di circa 10.000 metri quadrati con una spesa complessiva intorno ai 13 milioni di euro sto facendo degli sforzi enormi proprio oggi ho incontrato rappresentanti della cantieristica rappresentanti vertici di Azimut Benetti che hanno dato disponibilità di voler investire sul nostro territorio sul nostro porto quindi significa nuova occupazione nuove opportunità anche di crescita complessiva di recupero di quote non possiamo farci sfuggire queste occasioni e la fruibilità del porto è una condizione che loro hanno chiesto sulla quale ho preso impegni e voglio che altrettanto la regione faccia la sua parte la decisione di entrare in Marina Group ha detto l'ingegner Gennaro Candida Di Matteo è stata presa perché riteniamo Fano dove abbiamo già un nostro sito produttivo strategica per nuove produzioni di imbarcazioni fino a 40-45 metri il sito produttivo fanese di Azimut Benetti ha in produzione 24 yacht con il marchio Azimut e 8 con quello di Benetti per un valore della produzione annuale di circa 50-60 milioni di euro da lavoro a 110 persone che salgono a 250 considerando gli addetti delle aziende artigiane dell'indotto Stamattina abbiamo incontrato l'amministrazione per confermare che i componenti di Marina Group di cantieristica che chiaramente si erano messi un attimo un po' stand by un po' per questioni di procedure burocratiche un po' per la crisi che ha colpito un po' tutti i settori abbiamo riconfermato la volontà l'intenzione di investire e siccome come succede nei grandi nei grandi gruppi si fanno piani triennali quinquennali era importante far capire e conoscere all'amministrazione che queste realtà sono seriamente intenzionate a mettere il sito di Fano nel loro piano di sviluppo triennale quindi abbiamo sollecitato all'amministrazione avere un'attenzione particolare alla ristrutturazione del sistema logistico della nautica qui e intorno alla città di Fano in modo da incentivare il ritorno delle aziende che si stanno già guardando intorno ecco una volta completate le opere quindi la strada eccetera che cosa prevede il progetto il progetto prevede la costruzione di siti industriali destinati all'allestimento di barche dove sono non sono prese in considerazione lavorazioni pericolose di vetro resina o quant'altro ma allestimento di di imbarcazioni e le strutture sono capaci di ospitare barche fino a 45 metri chiaramente tutto questo è legato anche poi alla fruibilità del porto quindi si riconduce il problema dei fanghi del pescaggio e tutto quanto e quindi abbiamo sollecitato l'amministrazione a prendere in esame tutto il sistema costruttivo che va dalla zona industriale strada delle barche capannoni al porto e fruibilità delle acque un investimento di quanti milioni? parliamo ad oggi di 13 milioni di euro senza considerare quelli che si sono già spesi 2 milioni e mezzo aggiungiamo noi solo in burocrazia e adesso la cronaca un 21enne albanese da tempo residente a Sasso Corvaro in provincia di Fese Urbino è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Trebis Feltresche il giovane affrontando una curva ha perso per causa in corso di accertamento il controllo della sua auto che si è schiantata di lato con un'altra vettura che sopraggiungeva del senso opposto di marcia il 21enne è morto sul colpo sul posto dei vigili del fuoco di Urbino e un uomo ha dato fuoco ad un cassonetto dell'immondizia perché aveva freddo per scaldarsi così si è giustificato in tribunale un sessantenne pesarese arrestato dai carabinieri in via Mamiani ad Ancona ho perso il treno e avevo freddo per strada volevo solo scaldarmi ha detto l'uomo nel processo la difesa sosterrà l'assenza di un danneggiamento perché sussisteva uno stato di necessità e ad Aqualagna in provincia di Pesaro e Urbino la notte scorsa in un negozio di articoli sportivi è stato messo a segno un furto di biciclette da corsa valore della refurtiva 36 mila euro allora il totale sono state 19 biciclette per un valore di 34 mila euro e sono entrati alle 2.04 che poi è la telefonata che è scattata con l'allarme hanno agito in questa maniera sono entrati con i due mezzi un furgone di grossa cilindrata e molto anche molto grande per caricare poi 19 biciclette una macchina di grossa cilindrata identificata come un Audi 6 ed erano sette membri tra cui uno faceva il palo all'ingresso del negozio e una volta che hanno aperto la serratura e bloccato anche la porta del vedete perché poi i ladri pensando che il padrone il titolare del negozio abitasse qua sopra che cosa hanno fatto hanno fatto una semplicissima manovra geniale bloccandolo poi all'interno quindi lui anche scendendo non è potuto riuscire ad aprire la porta suonando l'allarme oltre a me suona anche a mio fratello ci siamo chiamati per capire se era veramente scattato l'allarme avendo un allarme volumetrico sulla abbiamo chiamato Daniele che è il padrone di sopra infatti ci ha confermato dell'avvenuto purtroppo e del furto che abbiamo subito e ci ha anche confermato i mezzi che erano qua davanti al negozio e la direzione che hanno preso abbiamo pensato di non venire su proprio ad alta velocità ma di vedere se riuscivamo a vederli in superstrada visto che erano diretti verso Fano mio fratello che era poco più avanti di me lui non li ha notati io invece mentre andavo su all'altezza della galleria di Fossombrone ho notato dall'altra parte che venivano giù ad alta velocità il fulgone e anche questa macchina di grossa cilindrata dietro tra l'altro da segnalare una visita sospetta nel pomeriggio intorno alle 18 si infatti intorno alle 18 è capitata una visita sospetta ma il fatto di questi tanti furti mi ha anche diciamo fatto prendere il numero di targa di queste due persone e fortunatamente speriamo che fossero loro ecco a causa di una forte tracheite che ha colpito il soprano patrizia orciani il concerto lirico in programma sabato 21 febbraio alle ore 21 e 15 al teatro della fortuna di Fano è stato rinviato a data da destinarsi e con questo avviso si chiude qui la nostra edizione del telegiornale grazie per averci seguito arrivederci